ariete umore messo alla prova da saturno e da molti colleghi per fortuna il lavoro ti garantirà qualche ora di assenza dal mondo e di concentrazione assoluta toro concentrazione oggi potrebbe non servirti altro per essere felice o perlomeno per tornare a casa sereno gemelli è tempo di sognare ancora e puntare alto o di ridimensionare i tuoi obiettivi miserata riuscirai a trovare il giusto equilibrio senza mai sacrificare il tuo entusiasmo cancro irresistibile cosa ci sia nell'aria non è dato saperlo certo è che venere ci mette lo zampino e ti veste di grande seduzione leone oggi il tuo livello di concentrazione sarà tale da regalarti grande produttività ed ottime idee vergine fai attenzione e non abbassare la guardia purtroppo tante volte i colpi bassi arrivano da chi proprio non lo diresti bilancia sei in attesa attesa che arrivi una mail che squilli il telefono che arrivi la conferma che aspetti attesa che qualcosa cambi e che anche venere si ricordi di te scorpione senti il bisogno di stare in compagnia di fare gruppo il lavoro intenso come sempre attraversa una delicata fase di trasformazione ti stancano un poco sagittario venere sarà motivo di distrazione purtroppo però sarà solo un vento di passione passeggero e molto effimero capricorno grandi incomprensioni con il partner per motivi esterni alla coppia sarete vittime inconsapevoli delle cattiverie di chi vuole vedere cedere la vostra in te acquario saturno ti aiuterà a capire quello che vuoi il futuro che desideri gli affetti di cui vuoi circondarti pesci forse arriveranno risposte che imporranno una scelta di vita non di poco conto per te e la tua famiglia soddisfazioni professionali in arrivo